Dovrò dire al Santo Padre che esistono tanti altri conti cifrati. C'è una bella cassaforte, dentro i documenti dovranno andare nelle mani del Papa. Parole di Monsignor Nunzio Scarano il 24 luglio scorso, l'ex contabile dell'amministrazione del patrimonio della sede apostolica, APS, attualmente detenuto in una struttura ospedaliera, si rivolge così al procuratore aggiunto Nello Rossi e ai suoi sostituti. Il verbale e agli atti del GIP di Roma dispone il giudizio immediato cautelare, udienza e il 3 dicembre. Il sacerdote parla di un incontro con il segretario di Stato uscente, Tarcisio Bertone. Il contabile in tonaca chiede di mettere ordine. La risposta di Bertone sarebbe stata fredda, priva di considerazione. Scarano a quel punto smette di firmare diversi documenti e prima di restituirli li fotocopia. L'accusa è di corruzione e calunnia. L'inchiesta parte dal falito tentativo di far rientrare illecitamente alla Svizzera 20 milioni di euro riconducibili, secondo l'accusa, agli imprenditori d'amico di Salerno. Tutto passa attraverso lo Iorbon. Signor Scarano aveva due conti, il fondo anziani e il conto corrente personale, 0 sul primo, 1.700.000 euro l'altro. Un po' tanti a fronte di uno stipendio da 3.500 euro al mese. A giudizio immediato andranno anche il broker Giovanni Carenzio e l'ex 007 Giovanni Maria Zito. Scarano avrebbe espresso il suo disappunto in Vaticano, disapprovato dai superiori, in particolare dall'ex direttore dell'Apsa, Giorgio Stoppa. Il parrimonio liquido dell'Apsa monterebbe a 6-700 milioni di euro collocati nel resto del mondo, Stati Uniti, Parigi, Londra. Allo Iorbon conto da 50 milioni di euro, un giro vorticoso d'affari, si pagava meno tasse, spiega Scarano, investimenti sicuri, tranquilli.